Rizzo rincorre la palla la tiene viva Jovovic l'appoggia di là free ball per Verona poteva andare meglio la difesa difesa resi Rizzo si difende a palatona in campo di Verona Kovacic a tutto braccio e arriva il primo muro di Thomas Beretta Kovacic palla molto vicino alla rete corregge Baranovic la difesa di Rizzo poi Botto potrà solo appoggiare sendera a mani aperte Baranovic all'indietro per Kovacic tocco morbido murato altra possibilità per Verona ancora Kovacic e ancora il muro di uno scatenato Thomas Beretta ancora una grande battuta di Galliani difficoltà per Kovacic sender può attaccare ma non forzare la difesa di Renan ma la palatona nel campo di Monza Baranovic al centro per Zinger il muro poi la difesa di Rizzo la risposta di Botto che giocata Jacopo Botto il missile ancora su pesaresi Baranovic per sender pallonetto la stoppata di Willy Wonka Nicola Iovovic Buon anno Botto 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 Grazie.